Parma, mostre, eventi, installazioni, concorsi e workshop. Per il terzo anno consecutivo Parma 360 mostra uno sguardo a tutto campo sul sistema della creatività contemporanea italiana e un focus sulla creatività emergente. Dal 14 aprile al 3 giugno, in vari spazi istituzionali e privati della città, si svolgeranno mostre di pittura, fotografia, arte digitale, scultura alternate a concerti, performance e attività formative e laboratoriali con alcuni tra i nomi più rilevanti dell'arte contemporanea italiana, come Davide Coltro, Francesco Di Lucca, Franco Fontana, Giovanni Frangi, Pietro Geranzani, Carlo Mattioli, Ernesto Morales, Barbara Nati e Daniele Papulli. Nella città designata capitale italiana della cultura per il 2020, il Festival Parma 360, uno dei 32 progetti del dossier di candidatura, ha il duplice obiettivo di recuperare la naturale vocazione culturale e artistica di Parma, facendone vivere in modo nuovo e sinergico gli spazi espositivi, e di sviluppare la comunità creativa del territorio attraverso l'arte, intesa come motore di crescita e trasformazione sociale. L'iniziativa, con la direzione artistica e la curatela di Chiara Canali e Camilla Mineo, è organizzata dalle associazioni 360 Grado Creativity e Ventside Art Company, con il sostegno del Comune e di Parma, Io ci sto, oltre ad un'ampia rete di partner pubblici e privati. Una novità di questa edizione è l'indagine sul tema della sostenibilità ambientale e del rapporto tra uomo, natura e paesaggio, fil rouge che unisce tutte le mostre, le installazioni e gli eventi dell'iniziativa in un percorso esplorativo visionario e poetico. Alla base della progettualità di Parma 360 ci sono inoltre i concetti di rigenerazione urbana e di rifunzionalizzazione degli spazi cittadini, il Festival mette in rete e promuove il patrimonio artistico già esistente in un vero e proprio museo diffuso sul territorio, valorizzando attraverso l'arte contemporanea chiese sconsacrate, palazzi storici e spazi di archeologia industriale non sempre aperti e visitabili, come il gioiello storico dell'Ospedale Vecchio, le ex chiese di San Quirino e Santi Borsio, l'antica farmacia di San Filippo Neri. Proprio a San Quirino, in Borgo Romagnosi, è allestita la mostra Terre Piane, tra i progetti di punta, che mette a confronto le ricerche del maestro della fotografia di paesaggio Franco Fontana e dell'inventore del quadro elettronico Davide Coltro.